Ciao, oggi parliamo della paura che ci sta avvolgendo tutti in questo periodo. Che cosa fa la paura? Ci porta a non curarci, ci porta ad adorarci dagli altri, ci porta ad avere ansia, depressione, isolamento, ci porta a non aver voglia di vivere. Volevo farvi una domanda, ma è giusto tutto questo? Per me no, perché le paure date dalla mente ci fanno morire dentro. Una volta che la nuvola si sposta, si ritorna a rivedere il sole. Secondo voi è giusto continuare a vivere avvolti da una nuvola? Allora, uno, alimentazione ragazzi, è importante, integratori e meditazione, perché la faccio anche tutti i giorni, almeno una mezz'oretta, e poi a bianca. Sapete perché? Perché è importante? Perché agisce sul piano fisico, mentale, emozionale e spirituale, riequilibrando il nostro stato psicofisico. E quindi arriva gioia, volontà, voglia di vivere. E la cosa più importante è che ti porta a volerti bene. Il massaggio è un grande amico per la nostra bellezza, ma soprattutto per la nostra salute. Ciao!